Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Damiano Fedeli. In A1 in direzione Firenze coda di 6 km per traffico congestionato fra Aglio e Calenzano. Nella stessa direzione 2 km di coda sulla variante di Valico fra Firenzuola e Aglio. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ancora in A1 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso fra Monte San Savino e Valdarno. In direzione Bologna code a tratti per traffico intenso fra Firenze e Impruneta e la variante di Valico. E sulla variante di Valico rallentamenti fra Aglio e Firenzuola. In A12 coda per traffico intenso alla barriera di Rosignano. Rallentamenti in direzione Genova fra la statale Aurelia e Rosignano. Ancora in A12 code a tratti causa traffico intenso fra il raccordo Lucca-Viereggio e il Bivio per l'A15 in direzione Genova. Oversini Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!